Forse la regione Piemonte andrà con ogni probabilità a partire da lunedì, che vi ricordo sarà il 27 dicembre 2021, in zona gialla. Di ciò ci informa l'attuale presidente della regione, Alberto Cirio, il quale avrebbe fatto sapere che l'80% dei ricoverati nel Piemonte si troverebbe in terapia intensiva e non è vaccinato, non è stato sottoposto ad alcun tipo di vaccino. Di conseguenza la preoccupazione forte è emblematica e palese e tangibile in Piemonte, tanto che la stessa regione in questione, ubicata nel nord d'Italia, da lunedì 27 dicembre 2021 potrebbe passare in zona gialla. Non sarebbe la sola, infatti potrebbe anche in Lazio passare in zona gialla e ciò ovviamente avrebbe degli effetti collaterali sulla città di Roma, la capitale d'Italia per eccellenza. Insomma, la variante Covid sta aumentando, notevolmente i contagi stanno aumentando, l'80% dei ricoverati si troverebbe in terapia intensiva e ciò ovviamente non è un qualcosa buono, un qualcosa di bello. E quindi le preoccupazioni sono tante, soprattutto da parte dell'attuale presidente della regione Piemonte, ossia Alberto Cilio, che saluto e che ringrazio. Il bio termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, però l'80% dei ricoverati è in terapia intensiva, ma si tratta di persone non vaccinate, quindi non sottoposte al vaccino anti-Covid-19. Iscrivetevi a canale Narratore Italiano e commentate. Un saluto nei cari, al prossimo video.